Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione. L'ultima settimana di agosto si tiene la settimana liturgica nazionale organizzata dal CAL, dal Centro Azione Liturgico. Noi siamo collegati con il professor Giuseppe Falanga che è liturgista e consigliere del CAL, Centro Azione Liturgica. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno Paola, a te e a tutti i vostri telespettatori. Sei a Chiavari perché ieri è iniziata la 73esima settimana liturgica nazionale. Dove sei esattamente? Sì, sono in quella che è la piazza principale di Chiavari. Potete vedere alle mie spalle il Duomo, la cattedrale di questa chiesa che ci ospita. In questo momento si sta celebrando l'Eucaristia presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi che è il presidente della conferenza episcopale italiana. Una settimana iniziata ieri che proseguirà fino a giovedì 31 agosto. C'è un tema che è stato scelto per quest'anno, Giuseppe? Sì, come sempre Paola c'è un tema che guida i lavori e tutto il percorso della settimana liturgica. Quest'anno è sulla bellezza. Nello specifico il tema riprende una frase del Vangelo della trasfigurazione. È bello per noi essere qui. Bellezza è verità della liturgia. Come dicevi è iniziata ieri sera la settimana con una stupenda prolusione di Monsignor Bruno Forte che è l'arcivescovo di Chietivasto e se me lo consenti lo dico da teologo e da liturgista è il più grande teologo italiano. Il tema della bellezza guiderà poi le altre relazioni di questa mattina, quella biblica, quella teologica, la tavola rotonda che terremo domani pomeriggio e fino alla conclusione di giovedì come accennavi ai telespettatori. Ci sono altri appuntamenti che vuoi segnalarci, altre presenze importanti, a parte quella di Monsignor Bruno Forte e quella del Cardinale Zuppi di questa mattina. Certo, come saprai gli appuntamenti della settimana liturgica non sono solo conferenze e tavole rotonde. La settimana liturgica ogni anno si tiene in una diocesi, quindi ci aiuta a conoscere anche il territorio per cui quest'oggi nel pomeriggio ci recheremo in battello nella vicina Rapallo e poi ovviamente come dicevi oltre a queste anche uscite ci sono le celebrazioni. L'Eucaristia, i Vespri o le Lodi Mattutina, ad esempio domani mattina saranno presiedute da Sua Eccellenza Monsignor Piero Marini che è stato per anni il maestro delle celebrazioni liturgiche del Santo Padre. Domattina poi dopo le Lodi ci sarà la relazione del Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Monsignor Vittorio Viola e quest'anno avremo la gioia di avere tra noi per la conclusione il francescano Padre Enzo Fortunato. Bene, allora Giuseppe sono anni che partecipi alle settimane liturgiche nazionali più volte Padre Piotv è stata presente, abbiamo anche trasmesso diverse relazioni, diversi momenti. Che occasione è la settimana liturgica? Non solo per gli addetti ai lavori ma anche come dire per i semplici fedeli? Ecco sì, grazie Paola per questa domanda. La settimana liturgica è un appuntamento importante della Chiesa italiana che purtroppo non viene ben evidenziato e viene messo in secondo piano magari rispetto anche ad altri appuntamenti che si tengono in questi giorni che sono passerella per politici o a personaggi ecclesiali. La settimana liturgica è aggiunta al suo settantatresimo anno quindi si tiene da prima del Concilio Vaticano II ed è organizzata, come dicevi, dal Centro di Azione Liturgica che è questa associazione che prima del Concilio, durante il Concilio e dopo il Concilio si è preoccupata, si occupa e è al servizio della Chiesa italiana perché la liturgia sia al centro. Il tema di quest'anno è particolarmente importante, quello della bellezza. Ti dicevo, se mi permetti, bypassando ogni linguaggio teologico o liturgico oserei dire, non è bello ciò che è bello, o meglio, ciò che piace ma è bello ciò che è bello. Quindi quest'anno noi mettiamo al centro la bellezza e non tanto per il fatto dell'aspetto estetico della liturgia quindi i paramenti, i canti, il Tempio stesso e la bellezza del popolo che celebra ma cosa celebra, cosa incontriamo noi incontriamo la bellezza noi celebriamo la bellezza San Francesco ci è maestro, no? Tu sei bellezza ecco perché l'icona biblica, come dicevo prima che guida questa settimana liturgica è il Vangelo della trasfigurazione che ci dice, a mio avviso, una cosa importante Paola la liturgia non è un momento che è fine a se stesso della vita cristiana ma è il momento principale in cui noi facciamo l'incontro con il risorto e poi come avviene nel Vangelo della trasfigurazione Gesù invita i discepoli a scendere con lui dal monte usciamo dal Tempio per incontrare il mondo per andare nel mondo, per annunciarlo, per evangelizzare ma soprattutto per testimoniarlo nel servizio ai fratelli quindi, ripeto, non è bello ciò che piace ma è bello ciò che è bello Giuseppe, io concludiamo provo a farti questa domanda so che non potrai rispondere io ci provo lo stesso magari ad avere anche qualche indizio l'ultimo giorno la relazione conclusiva che sarà tenuta appunto da Monsignor Claudio Maniago che è presidente del centro di azione liturgica le conclusioni sono affidate a lui e sicuramente lì poi c'è l'annuncio della città che ospiterà della diocesi o arcidiocesi che ospiterà la prossima settimana liturgica nazionale c'è qualche indizio? Tu sai che questo è il grande segreto di questi giorni soprattutto noi del consiglio, del direttivo siamo martellati, richiesti tutti vorrebbero conoscere il segreto che la sede della settimana liturgica del 2024 verrà annunciata dall'arcivescovo presidente alla fine posso dirti, posso fare questo piccolo scoop per Padre Pio TV che rimarremo nella zona nord di Italia mentre fra due anni nell'anno del giubileo a Dio piacendo scenderemo dalle mie parti quindi andremo al sud va bene? dalle mie parti bene bene quindi insomma più non posso dire va bene ci accontentiamo di queste piccole indicazioni di questo piccolo scoop ma tanto comunque lo sapremo ne daremo notizia venerdì 1 settembre ai nostri amici telespettatori e poi come tradizione torneremo a collegarci anche il prossimo anno per la settimana liturgica nazionale sarà un piacere Paola con il professor Giuseppe Falanga a meno che tu in questo arco di tempo non scriva un altro libro quindi come sai se scrivi un libro siamo contenti di poterlo presentare grazie 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 al professor Giuseppe Falanga liturgista consigliere del centro di azione liturgica e amico di Padre Pio TV grazie e buon lavoro buona settimana saluto a te Paola a tutti i telespettatori e ai miei amici frati bene che sicuramente hanno ascoltato questo saluto se non l'hanno fatto porteremo noi il tuo saluto a loro grazie ancora 9.40 dobbiamo fermarci andiamo ancora linea alla regia e poi torneremo per la parte conclusiva di Just Today grazie a tutti